È vero che le mie ricette le ho apprezzate maggiormente perché sono molto semplici, ma devo anche ritenermi molto fortunato perché se sono anche molto buone è grazie alla materia prima, grazie agli ingredienti genuini che utilizzo. E proprio per questo oggi voglio farvi vedere uno dei miei orti, che è quello alla quale sono più affezionato, perché? Semplicemente perché è a portata di mano, è vicinissimo a casa, quindi basta sporgermi a centimetro zero e da lì vado ad attingere di tutte le cose che mi servono quotidianamente per cucinare. In questo appezzamento abbiamo messo un po' di tutto, proprio per avere tutto a portata di mano, poi le altre cose le abbiamo negli altri campi. E oggi semplicemente voglio condividere con voi anche questo. Venite con me. Tra l'altro chi come me lavora tante ore davanti al computer potrà capirmi e potrà anche apprezzare quando poi vai finalmente all'aria aperta, anche a fare questi lavori in campagna diventa davvero rilassante, ti riposi la mente e ti riposi gli occhi. Pertanto io al mattino, prima di andare al computer, vengo qui nel mio appezzamento, sto all'aria aperta, annaffio, leggo i pomodori, faccio quello che c'è da fare e poi vado al computer. Adesso vi faccio vedere in dettaglio. Allora, qui abbiamo alla mia sinistra un bel solco di pomodorini. Sono pomodorini di tipo datterino e serviranno abbondantemente per la caprese, per il sugo, da mangiare così come le ciliegie. L'uno tira l'altro. Sono davvero spettacolari. Guardate qui ce ne sono tantissimi, ancora sono verdi, ma non tarderanno molto a maturare. Qui abbiamo messo anche un'altra varietà di pomodori, sempre di questi piccoli, e sono i pomodori del Piennolo, quelli tipici della zona dei campi vesuviani. E oltre che per il buon sapore, mi piacciono anche perché possono essere appesi in grappoli e conservati anche per l'inverno. Guardate quanti ce ne sono. Anche se c'è da dire che quest'anno, come tutti, siamo un po' in ritardo perché quando era il tempo di piantare c'era ancora un po' di pioggia e pertanto i giorni sono passati. Da questa parte invece abbiamo una bella fila di mini anguria, una frutta strepitosa, anche perché sono del formato giusto. Ne inizi uno e lo mangi da solo. Poi soprattutto nelle giornate calde è davvero un tocca sana. Qui non può mancare il peperone, quello nostrano, quello che utilizziamo per arrostire, quello che utilizziamo da essiccare per poi farlo crusco, oppure farlo in polvere per i salumi e anche per la cucina. E queste, come vi dicevo, sono già i pomodori, già abbiamo messo i pali, sono già stati legati. La schiena fa male, ragazzi, però il sacrificio poi viene ripagato. Qui c'è una bellissima pianta di pesca e sotto ci sono delle piantine di peperoncino, sempre a portata di mano in ogni angolo del terreno. Qui nel lato destro ci sono le cipolle rosse dolce di Tropea e sulla sinistra una fila di melanzane. Queste sono piccole piantate stamattina e giù in fondo ci sono quelle più grandi. Il limone su una bella fetta di carne o su una frittura o per un bel liquore di limoncello c'è sempre tutto quello che vedete qui ovviamente non è trattato. Qui abbiamo invece i fagioli borlotti. È stata già messa la rete sui pali per permettere loro di arrampicarsi. Una volta venivano usate le canne incrociate, le frasche e ora si utilizza invece la rete. Qui abbiamo invece delle zucchine dalle quali oltre a gustarci le zucchine stesse prendiamo anche i fiori al mattino che sono strepitosi sia in cucina, pastellati, frittelle. Qua c'è il nostro sedano che è tutt'altra cosa di quello comprato, basilico e l'insalata. L'insalata che abbiamo piantato in due o tre volte in modo che così fa a ripetizione. C'è sempre quella più grande, nel frattempo cresce quella più piccola e non manca mai. Avanti invece c'è la zona degli odori e non può mancare il prezzemolo, c'è il basilico e c'è ancora il peperoncino. Il peperoncino che vedete a portata di mano sempre è il classico diavolicchio calabrese. Quello che noi mangiamo ogni giorno, quello dalla giusta piccantezza che dà anche sapore al piatto. Ricordiamoci e ve lo ricordo sempre che il peperoncino è un insaporitore. Non vi deve togliere il gusto ma vi deve solo accentuarlo e farvelo gustare. E poi se vogliamo una bella frittata ci sono le nostre galline che ogni giorno ci regalano queste deliziose uova. A me piace tanto l'uovo che si inzuppa. Comunque si può fare anche una gustosa merenda e colazione con queste buonissime uova. E sì caro Pietro, devi ritenerti proprio un bambino fortunato che vive in campagna. Sai che tanti bambini magari vedono le uova soltanto al supermercato e tu invece hai la fortuna di poterle prendere tutti i giorni direttamente dal pollaio. È una grande, grande fortuna. È una grande, grande fortuna. Ragazzi non vedo l'ora che è pronto. Ragazzi però tanti di voi non si sono iscritti al canale. Iscrivetevi e ditemi se volete vedere una volta un dolce fatto con l'olio di gomito senza frullatore. Eccolo pronto. Buon appetito. 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 Grazie.